sono giunto alla conclusione di checks quest hd quindi non parlerò più sul mio canale viola che mi invito a seguire nei link in basso insieme agli altri miei social non parlerò più di questo fan di questa fantastica mod che dopo 26 anni ha ricevuto questa sorta di sequel fatto abbastanza bene considerando che comunque anche il gioco originale era un doom like però non comunque sul mio canale youtube scrivete checks quest trovate tutto e trovate anche l'unboxing di questa piccola bestia piccola mica tanto vada qua mi sovrasta praticamente e niente spero vi sia piaciuta l'impegno che ci ho messo per raccontare i vari finali di ogni personaggio di checks quest e quindi niente andiamo a fare l'ultimo che sarebbe questa sorta di di pretzel gigante non so come definirlo salatino pretzel non lo so sembra uno di quei biscotti salati appunto che siamo abituati a mangiare mischiati tra l'altro con l'ultimo finale si sblocca si sbloccano anche gli ultimi 2 achievements che sarebbe praticamente quello di finire il gioco con ogni personaggio e come sempre anche in questo gameplay ci sarà si chiama proprio pretzel come sempre anche in questo gioco ci sarà il 100% dei segreti lo so gameplay ci sarà da La prima volta, un volcano esplodato su Planeta Bezoic, lanciando particolari di rocci in l'espace. Uno di questi asteroidi è stato capturato e portato a nostra terra per testare. We were investigating these blobules as proof of snack life on other planets when we discovered that they actually contained eggs to an evil snack-eating creature from another dimension. When the eggs are exposed to nutritional substances, they hatch into what we call... ...Lammoid. Two days ago, we lost contact with the people on Bezoic, including five members of the Czechs Mixed Squadron. We can only assume the phlemoids have taken over. To make matters worse, we have found that conventional weapons seem to have no effect on these phlemoids. However, by recalibrating the phase frequency of Azorcher, we can send the phlemoids back to their own dimension. We need a volunteer to fly to the caverns of Bezoic and attempt to rescue the missing units there. That's ridiculous! Which soldier would be fool enough to enter a cavern full of unstoppable phlemoids from another dimension? ChexQuest HD High Definition Bello quality... Beh, a furia di fare citazione hanno messo uno che fa solo bleh 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 bleh:" Grazie a tutti. Faccio vedere in fretta i segreti perché tanto negli altri gameplay mi ci sono soffermato, poi comunque li guardo giusto quei 2-3 secondi per darvi il tempo di pausare se volete leggere, se non avete visto appunto gli altri gameplay. Grazie a tutti. 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 Ok, ultimo nivel. аг1,5,5,6,5,0,0,0,0. Sperto,1,0,0,0. Yn,3,0,0. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.